Si era intascato 19 milioni di euro frutto dei biglietti di ingresso ai musei siciliani arrestato imprenditore romano. La fedeltà fiscale come strumento per la crescita della Sicilia se ne è discusso oggi a Palermo in un convegno che si è svolto presso la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. Presentato oggi a Palazzo Comitini la quinta edizione delle giornate dell'economia del mezzogiorno organizzato alla Fondazione Purella. Bentrovati al consueto appuntamento dell'informazione di Media News, prima edizione di mercoledì 28 novembre. Avvalendosi di tre associazioni temporanee di imprese di cui era legale rappresentati in Sicilia, si sarebbe appropriato indebitamente di circa 19 milioni di euro derivanti dell'emissione dei biglietti per l'ingresso nei siti archeologici siciliani. L'accusa di peculato che ha portato Gaetano Mercadant, 51 anni, residente a Bracciano, agli arresti domiciliari eseguiti dalla Guardia di Finanza. Le indagini delle fiamme gialle proseguono e non si escludono altri reati compiuti da Mercadante né il concorso di altre persone nel portare avanti la truffa. Tra i 24 siti gestiti dalle società di cui Mercadante era rappresentante legale ci sono il Teatro Antico di Tormina, il Museo Archeologico Ibleo di Ragusa, la Cava di Ispica a Modica, le aree archeologiche di Segesta e Seninunte, nonché il Museo Pepoli di Trapani. Tutto è iniziato per un'indagine che è durata un anno e mezzo circa e ha riguardato proprio la verifica della convenzione in virtù della quale l'odierno indagato, l'odierno arrestato, di fatto incamerava risorse pubbliche che andavano poi riversate alla regione e ai singoli comuni dove insistevano i singoli siti archeologici. Quindi da un esame documentale e anche da attività di accertamenti bancari è stato riscontrato che di questi 19 milioni si era persa completamente traccia. In più, come se non bastasse, ulteriori 14 milioni sono stati versati con notevole ritardo e già il fatto di versare con ritardo comunque configura reato di peculato. In questo caso vittime sono proprio i siti archeologici e quindi anche gli enti locali? Decisamente sì, anche perché il 19 milioni che non sono entrati nelle casse della regione e dei comuni ha creato un corrispondente ammanco nelle casse di questi enti locali. E sappiamo bene che in un periodo come l'attuale, dove le risorse pubbliche sono comunque ridotte e limitate, è necessario fare in modo che tutte le risorse spettanti agli enti locali vi confluiscano per la gestione dei servizi comuni al cittadino. L'inchiesta ruota solo a un singolo indagato, ma diciamo 19 milioni di euro è anche possibile se sia orchestrato da un gruppo? Le indagini non terminano, tant'è che la Procurella Repubblica, Dipartimento Pubblico e Amministrazione ha disposto di eseguire indagini ancora più ad ampio raggio, perché non si esclude che per far sparire 19 milioni ci sia stato il concorso anche di altri soggetti, ma questo riguarda un capitolo che è tuttora in corso di approfondimento. Cambiamo argomento, la fedeltà fiscale come strumento per la crescita economica della Sicilia se ne è discusso oggi a Palermo in un convegno che si è svolto presso la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo. Rinforzare il patto di fiducia tra Stato e cittadini è stato questo il tema conduttore del convegno che si è svolto oggi presso la direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate dal titolo La fedeltà fiscale come strumento per la crescita della Sicilia. A confronto esponenti del mondo accademico, dirigenti dell'Ufficio delle Entrate e della Guardia di Finanza che hanno evidenziato la necessità, oltre al taglio della spesa pubblica improduttiva, di recuperare l'evasione fiscale nell'attuale contesto di crisi economico-finanziaria. Secondo Antonino Gentile, direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Sicilia, gli strumenti normativi devono perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi fiscali facendo leva sui controlli e sull'offerta dei servizi resi al cittadino. La buona amministrazione in questo senso non può prescindere da un efficace sistema normativo. Gli ultimi interventi legislativi introdotti dal governo Monti cercano infatti di marciare in questa direzione con l'adozione di strumenti come il redditometro, la tracciabilità dei pagamenti e dei movimenti bancari, mentre sul versante delle semplificazioni vanno ricordati la tassazione onnicomprensiva del 5% per le nuove imprese giovanili e la possibilità di rateazione dei debiti tributari per 72 rate. In questo senso, a concluso Gentile, è fondamentale il rapporto di fiducia del cittadino col fisco. Sentiamo adesso il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Gentile. Ascoltiamolo in questa intervista. Quali strumenti sono in uso all'ufficio delle Entrate, alla Guardia di Finanza per scoprire i grandi evasori? Abbiamo tantissimi falsi poveri in Italia che magari percepiscono anche indebitamente pensioni. Come scoprire? L'approccio è diverso. Se parliamo di grandi evasori, quindi grandi imprese, grandi società, tutte le grandi imprese sono monitorate singolarmente. Noi abbiamo delle schede di analisi del rischio che contengono gli indici di bilancio, i fattori di rischio di quella specifica società, ad esempio operazioni con l'estero o forte oscillazione del fatturato. Per quanto riguarda le persone fisiche, invece, l'approccio è diverso. Per le imprese individuali o i singoli cittadini, il redditometro è uno degli strumenti più importanti. Perché il redditometro mette in confronto il reddito dichiarato con la capacità di consumo manifestata. Quindi dall'altro abbiamo le uscite effettive e dall'altro le entrate effettive dichiarate. Quindi se la differenza è a benorme è chiaro che bisogna andare ad approfondire col contribuente delle ragioni e poi, se è il caso, fare un accertamento. Insomma, i falsi poveri che camminano con macchine di lusso? I falsi poveri credo che è bene che camminino con le macchine adeguate alla povertà. Se non sono più falsi è allora che si dichiarano ricchi e vivono anche in maniera più serena e senza paure di essere accertati. Gli otto deputati regionali del partito dei siciliani hanno eletto all'unanimità Roberto Di Mauro come capogruppo all'Arsi. I parlamentari hanno condiviso la linea politica espressa dal partito nel corso della riunione del comitato regionale di Enne e hanno confermato, precisano in una nota, il sostegno incondizionato da ogni iniziativa del governo Crocetta che vada in direzione della difesa dell'autonomia regionale dei diritti della Sicilia e dei siciliani. Gesip si avvicina la liquidazione, il governo centrale metterà a disposizione della cassa integrazione interroga 8 milioni e mezzo di euro anziché i 15 milioni previsti, ma per il sindaco Orlando vanno bene. Lo stesso, vediamo. Ieri avevamo riferito del buon esito della missione romana del presidente della regione Rosario Crocetta e del sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. In ballo c'erano i finanziamenti del governo per la cassa integrazione delle aziende siciliane, compresa la palermitanissima Gesip. Tutti contenti alla fine, ma adesso è arrivato il momento delle precisazioni. Nell'accordo sui fondi della cassa integrazione firmato da Crocetta al Ministero del Lavoro si fa riferimento alla Gesip per cui sarebbe disponibile una somma inferiore rispetto a quella che era stata richiesta, e cioè 8 milioni e mezzo di euro anziché 15 milioni per coprire le indennità da settembre a dicembre. Anche se si tratta di meno soldi, il sindaco Orlando si ritiene comunque soddisfatto. Finalmente, ha detto, è arrivata la conferma dell'impegno assunto l'11 settembre scorso. Intanto il sindaco ha partecipato all'assemblea dei soci della Gesip, nel corso della quale sono state assunte le decisioni che servono affinché il liquidatore possa accertare lo stato di insolvenza tramite il tribunale. A quel punto si darebbe inizio alle procedure di liquidazione, fatte salve le tutele per i lavoratori. Il segretario della CGL Maurizio Calà dice la sua sui accordi tra governo, regione e comune di Palermo sui finanziamenti per la Cassa Integrazione in Sicilia e per la Gesip. Apprendiamo, ha dichiarato Maurizio Calà, che è stata inviata una bozza del progetto della società consortile che dovrebbe rilevare la Gesip ai capogruppo e non alle organizzazioni sindacali. Sempre dalla stampa, apprendiamo dell'impegno del Ministero a finanziare la Cassa Integrazione degli operai Gesip e delle iniziative per avviare le procedure fallimentari della società. Serve una riunione immediata, conclude Calà, per affrontare la discussione sulla società che dovrà prendere il posto della Gesip. Su tutte queste partite aperte è chiaro che il confronto col sindaco è necessario per conoscere nel merito le intenzioni e i progetti dell'amministrazione. E sullo stesso argomento è intervenuta anche la CISL siciliana. Apprezziamo la celerità con cui il Presidente della Regione, Crocetta, si è impegnato a recuperare i ritardi accumulati dal precedente Governo regionale sul fronte degli ammortizzatori sociali in deroga, si legge in una nota. Tuttavia le risorse messe a disposizione allo Stato rischiano di essere largamente insufficienti per il 2012. Il sindacato chiede a Crocetta una trattativa con il Ministero del Lavoro e le parti sociali perché, sottolinea la CISL, la crisi delle società a partecipazione pubblica degli enti locali rischia di esplodere. E adesso ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19. Antenna 1 sul canale 185. E Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Presentato oggi a Palazzo Comitini, la quinta edizione delle giornate dell'economia del mezzogiorno organizzato dalla Fondazione Curella. Vediamo. Cinque giorni fitti di appuntamenti, incontri e momenti di confronto per approfondire la felicità, oltre i cambiamenti geoeconomici. Al via dal 3 al 7 dicembre la quinta edizione delle giornate dell'economia del mezzogiorno organizzata dalla Fondazione Curella. Secondo Pietro Busetta, presidente della Fondazione, dal 2008 siamo entrati nel tunnel della crisi dalla quale non si vede via d'uscita. Siamo quindi, prosegue Busetta, di fronte ad un cambiamento epocale perché dal 2008 nulla è stato più come prima e soprattutto per i prossimi anni bisognerà attrezzarsi in modo diverso. Occorre quindi dare risposte concrete sia a livello politico che economico che sociale. Siamo stati abituati a crescere ogni anno, quindi quando uno ogni anno ha qualcosa in più rispetto a quello che aveva l'anno precedente evidentemente poi pensare che invece deve fermarsi è una cosa difficile. Però probabilmente ci fa anche bene questo fermarsi perché veniamo da un periodo in cui avevamo, che gli armadi sono rimasti troppo pieni forse, forse utilizzavamo anche farmaci eccessivi, forse un ritorno al chilometro zero rispetto alle merci, un ritorno a considerare che sono altri gli elementi oltre il denaro, quelli che fanno sì che ci sia un equilibrio psicofisico. Com'è cambiato il mondo dal 2008 a oggi secondo lei? Sta cambiando nel senso, è cambiato nel senso che praticamente i paesi, ci sono affacciati una serie di paesi nuovi entranti, la Cina, l'India, il Brasile, la Russia, la Sudafrica, questi riescono a produrre a un costo per un'unità di prodotto molto più basso del nostro e quindi evidentemente le loro industrie vanno avanti, le nostre no. Loro creano posti di lavoro, noi non ci riusciamo. Loro aumentano i loro redditi pro capite, noi no, anzi li diminuiamo. Ecco, questo è cambiato, è come se fosse stato scoperto l'arco. Sulle tracce dei russi in Sicilia, cronache ed itinerari dei viaggiatori russi dal 700 al 900 e il titolo del volume è scritto da Alessandro Bellomo e Michele Nigro che sarà presentato questo pomeriggio all'Osteri di Palermo a cura dell'Associazione Culturale Suggestioni Mediterranee. L'evento vedrà la partecipazione del console generale della Russia a Palermo, Vladimir Korotkov. E' uscito per la De Agostini il nuovo libro di Alessio Puleo, Il mio cuore ti appartiene, un romanzo che racconta di amore, adolescenza, generosità e donazione con la prefazione di Federico Moccia. Ascoltiamo l'autore. Il mio cuore ti appartiene, seconda fatica letteraria di Alessio Puleo, un romanzo che parla di generosità. Sì, è un romanzo che mi sta molto a cuore per il solo fatto che comunque ha dato voce a una tematica molto delicata che è quella della donazione degli organi. Il tutto però fatto attraverso una bellissima storia d'amore in cui i giovani protagonisti praticamente fanno rivivere tantissime emozioni ai possibili lettori. Cioè per il lettore è facile rivedersi nei ruoli di quei giovani protagonisti rivivendo le stesse emozioni, gli stessi problemi di un giovane però alla fine della lettura acquisiranno l'importanza della donazione degli organi. E' una prefazione di Federico Moccia per questo libro che sicuramente è rivolto a tutti ma è rivolto soprattutto anche ai giovani. In tempi di internet, di social network eccetera che valore può avere ancora la lettura di un libro? Beh, un grandissimo valore. Di fatti, sì, l'ho proprio rivolto ai giovani proprio perché sono loro i maggiori portatori di questo messaggio e bisogna far capire a loro quanto davvero sia importante donare. C'è ancora spazio per i sentimenti in questa epoca moderna? Purtroppo diciamo che l'evolversi dei nostri tempi hanno portato un po' allontanarsi dei sentimenti. Il fatto che comunque adesso si vive attraverso un pc, adesso non si socializza più, questa è una cosa davvero molto triste. Questo libro praticamente parla un po' anche di questo perché è una storia scritta 14 anni fa dove ancora non c'era internet o meglio non tutti avevano internet, il telefonino era una cosa abbastanza rara che non tutti avevano. Quindi si dava più spazio alle emozioni. Mondello, giovani, il festival della letteratura giovane promosso dalla Fondazione Sicilia e nato dal premio letterario internazionale Mondello prenderà il via domani, giovedì 29 novembre a Palermo. Il primo appuntamento è in programma alle 21 al Cursal Calesa, Forumberto I numero 21 con il talk show intitolato Narrazioni al tempo della crisi. Condotto dalla giornalista Anna Livigni partecipano gli scrittori Edoardo Albinati, Paolo Di Paolo e Davide Orecchio vincitori del premio opera italiana della 38esima edizione del premio letterario internazionale Mondello. L'ingresso è libero, il festival quest'anno è intitolato a Carmela Petrucci, la giovane palermitana barbaramente uccisa lo scorso ottobre. Vi informiamo che grazie all'attivazione del ripetitore televisivo di Monte Lauro adesso le nostre emittenti Tele One, Antena 1, Video One e Tele Palermo sono visibili oltre che a Palermo e Catania anche nelle province di Caltanissetta, Enna e Ragusa. Per quei telespettatori che non dovessero ancora ricevere i nostri emittenti si consiglia la risintonizzazione automatica del proprio decoder o televisore digitale. Vi ricordiamo che Tele One è visibile sul canale 19, Antena 1 sul canale 185, Video One sul 196 e Tele Palermo sul 641. Per segnalare problemi in ricezione o sapere se e quando la vostra zona sarà coperta dal nostro segnale potete telefonare allo 091 33 36 60, un nostro tecnico vi darà maggiori informazioni. Con questa notizia si chiude il telegiornale, grazie di aver scelto informazioni di Median News. Per tutte le altre informazioni vi rimando all'edizione serale. Buonasera. Il tempo su Palermo oggi, mercoledì 28 novembre, caratterizzato da piovaschi e schiarite, venti prevalentemente moderati che soffiano da libeccio, temperature comprese tra 15 e 19 gradi. Anche a Catania piovaschi e schiarite, i venti sono moderati e soffiano da sud e sud ovest, temperatura minima 19 gradi, massima 21. Domani giovedì 29 nel Palermitano pioggia debole e schiarite, i venti saranno prevalentemente forti, soffieranno sempre da libeccio, temperature 12 la minima, 15 la massima. A Catania domani il cielo sarà poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da ovest e sud ovest, temperature comprese tra 12 gradi e 17 gradi.